La mail è certamente il più trasversale tra i linguaggi digitali informatici. Tutti la usiamo, giovani e anziani. Proviamo a riconoscere da alcuni segnali quando una mail è sospetta. Gran parte delle frodi informatiche passano attraverso le mail. Il vero problema della comunicazione digitale è che un hacker, un attaccante, ovvero un aggressore, può introdursi facilmente nel flusso digitale di una comunicazione fra mittente e destinatario. E quindi il destinatario avrà sempre l'impressione magari di comunicare col mittente iniziale, ma in realtà l'hacker si è sostituito ad esso. Una mail malevola, quindi dal contenuto illegittimo, si può presentare in questo modo. Quindi evidentemente l'attaccante chiederà i propri dati e le proprie password semplicemente cliccando sul link che propone. Questo link evidentemente ci chiederà di inserire l'username e la password, in questo caso, e nel momento in cui noi inseriamo le credenziali le avremo direttamente inviate all'aggressore. Ci sembrerà chiaramente di inviarle al legittimo richiedente, ma in realtà quello che stiamo facendo è consegnare i nostri dati essenzialmente a un attaccante, a un hacker e a nostra e chiaramente a nostra insaputa. Valutare il leader di una mail significa essenzialmente scoprire qual è il vero indirizzo a cui stiamo inviando le nostre comunicazioni.